non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma come faccio a combattere un passaggio con un carro? se non c'è un carro all'aereo, ma se a avastare, come uscire qui? un po' a fare sempre come uscire a tirare questa passaggio se ho scordato questa notte la c'era andato un bicicletto a veneto e qui in causa di esame cercava di fare un bisogno e un bisogno non esceva la c'entra quando esceva il bisogno, in causa si fa e tutto il bisogno stiamo lì, adesso mi fa puntuare le cose che succedono questa notte, mi trovo lì ancora ora andiamo a fare un viaggio che io metto a Roma, non amo, ma ci sono un'interno passaggio